C'è nemiche della muffa, benvenuti in un nuovo appuntamento con le nostre live della domenica e vediamo se anche oggi ci sarà qualcuno che si collegherà con me. Oggi apro la mia live a tutti quelli che non mi conoscono e vediamo se tra voi c'è qualche vittima degli abbassamenti di temperatura e con qualche problema di muffa in casa. Quindi come sempre mando sempre il mio appello tramite Piccione Viaggiatore se c'è qualcuno che sta gironzolando su live se vuole parlare con me. Però oggi c'è una novità molto importante perché inauguriamo un nuovo format. Ci ho lavorato su tanti giorni, come potete vedere quelli che si collegano hanno purtroppo una bruttissima immagine di benvenuto che è una delle mie tante foto di muffa che ho fotografato nei miei giri per l'Italia a caccia di muffe, ma oggi c'è una novità che posso raccontarla quando questa live si riempirà un po' e lo potete vedere qua in alto, ovvero l'analisi muffa in live. Quindi avremo un canale aperto su un altro schermo che ho davanti a me dove risponderò a tutte le mail di persone che mi manderanno delle fotografie della loro muffa in diretta, in tempo reale, così invece che raccontarvi delle mie solite muffe cattivissime, noiose e pesanti potrò dedicare del tempo a ognuno di voi che avrà la faccia di metterci come dire un po' di quella sfacciataggine di inviarmi una mail con la propria muffa che hanno in casa. Con che straccio va pulita la muffa Elena? È una follia, non si pulisce la muffa con lo straccio di nessun tipo di materiale perché se tu strofini con un panno di stoffa secco sulla muffa diffondi le spore e non hai risolto il tuo problema. Perché vuoi pulirla con lo straccio al di là che vuoi togliere la macchia che non ti piace? Magari parliamone Elena ma soprattutto se vuoi raccontami la tua esperienza o se vuoi mandami una foto direttamente dal tuo cellulare a quella casella mail che vedi in alto live chiocciola bastamuffa.com perché oggi faremo qualcosa di diverso. Per chi mi conosce nelle live di solito io racconto le mie muffe ma se mi mandate la vostra foto io potrò parlare della vostra muffa. Come si fa a candeggina? Elena vorrei chiederti se sei la prima esperienza con la muffa, se hai già avuto problemi in passato, dove ti si forma questa macchia per poterti dare un po' di aiuto. La candeggina è il rimeggio che si usava 50 anni fa nelle case dei nostri nonni che erano molto spaziose, non avevano gli infissi come oggi, non avevano il cappotto, avevano una macchettina di muffe e la pulivano con la candeggina ma oggi è un pochino superato il concetto di usare la candeggina nelle camerette dei bambini o in luoghi dove respiriamo. Credo che secondo me fa più paura usare la candeggina che tenersi un puntino di muffa, se mi posso permettere. Questo è quello che io racconto nei miei vari video di persone che hanno problemi di muffa a gennaio e mi dicono Giuseppe qualcosa che tolga la muffa ma che non uccida le persone. Poi se mi vuoi raccontare meglio dove si trovano queste muffe e da quanto tempo ce le hai magari posso esserti più di aiuto. Allora per gli amici collegati oggi c'è un nuovo format come vedete si è aggiunto questo box giallo e chi mi manderà una foto in live ho provato questa mattina per un gruppo ristrettissimo è andata benissimo. Quindi se voi avete, siete a casa, avete il cellulare ma scattate la foto e me la mandate via mail e mi scrivete chi siete e il vostro problema io tolgo questa immagine e mostrerò la vostra muffa. Però intanto parlo con Elena a casa in due mesi si è fatta tantissima muffa bagno sui termosifoni camere con muro bagnato quindi Elena è la prima volta che hai problemi di muffa negli anni precedenti non era mai successo da dove mi scrivi dove abiti qui sono tutti elementi importanti perché io non è che posso darti un consiglio di compri un prodotto e andrà tutto bene perché ci sono dei motivi per cui hai tantissima muffa potresti avere un alto livello di umidità potresti avere problemi che non possono essere risolti con un semplice prodotto tantomeno uno straccio e un po di candeggina. Monsummano terme lo conosco avevo una mia conoscente che era lì confermami se è il paese delle terme. Bello, bei posti, belle persone però purtroppo capita anche che c'è della muffa. Quindi Elena l'elemento che mi manca potete dare un consiglio è se è la prima volta nella tua vita che c'è muffa in casa da due mesi oppure si ripete da anni. In passato poco muffa ora tanta. Ok Elena praticamente cosa succede che sei vittima come tanti di noi quest'anno di un clima un po' anomalo ovvero avrai notato che a dicembre quasi chi aveva il mare poteva andare a farsi il bagno no? Quindi a differenza degli altri anni dove a ottobre arrivava il freddo e restava così pioveva eccetera eccetera quest'anno a dicembre anzi fino all'altro ieri possiamo dire che il clima era tutto sommato buono. Quindi un sacco di persone non so tu dopo il cenone di natale hanno avuto un sacco di problemi di muffa perché semplicemente case riscaldate muri freddi sbalzi di temperatura basta guardare il meteo. Quindi una volta che la muffa è entrata in casa tua poca o tanta che sia se ti accontenti di pulirla con uno straccio ti faccio vedere la foto dal mio computer e credi che tu hai risolto il tuo problema ahimè potrebbe non funzionare. Poi ovvio che se fino ad oggi te la sei cavata un po' alla buona magari vorresti cavartela alla buona anche adesso quindi io ti sconsiglio di utilizzare la candeggina perché mi hai elencato stanze dove soggiornano delle persone. Dovresti andare in un colorificio a chiedere un liquido antimuffa il più ecologico possibile per il rispetto della salute delle persone. Però c'è un problema Elena se tu per esempio hai un problema di muffa come questo che sta in un angolo freddo anche se la muffa la togli potrebbe ripresentarsi nel giro di qualche mese però la tua priorità in questo momento è quella di bloccare l'avanzata della muffa. Quello che posso dirti quello che facciamo noi che ci occupiamo di prodotti naturali contro la muffa se la muffa non è questo sito la scheda di questo prodotto e ne parliamo ma attenzione ragazzi è arrivata la prima mail e io sono come un bambino a Natale che aspettava questa cosa. Stefano so che sei lì sei di Rozzano adesso trasportiamo questa foto in questo computer quindi siccome non ci sono regie o costose strumentazioni devo aprire la casella di posta che ho qua dietro e andiamo a parlare della tua live muffa caso disperato perfetto mamma mia ingrandisco lo schermo e vediamo un po' perfetto Stefano scrivimi se sei qua perché altrimenti non so con chi devo parlare. Ce l'abbiamo fatta ragazzi è fattibile quindi se voi mi mandate a questa mail le vostre foto di muffa se ne mettete più di una io non mi offendo eh posso essere più utile quindi Federico che rappresenta Stefano e Franci ok allora ragazzi mi dovete raccontare la vostra storia questo è un disastro vedo semplicemente qua un un lucernario un oblò ma quello che vedo è che angolo di una parete rivolta all'esterno e quindi potreste avere anche voi problemi di muffa da condensa. Fate conto che siete a una riunione degli ammuffiti anonimi quindi vuol dire che potete dire sono tre giorni che non uso candeggina per togliere muffa raccontate il vostro problema siete tra amici tranquilli nessuno vi giudica siamo due fratelli ok piacere ragazzi io sono Giuseppe. Porta finestra che manda nel giardino sei di Rozzano e io sono anche abbastanza vicino da te perché sono di Cernusco sul Naviglio però prima di pensare se possiamo vederci di persona per guardare questa muffa avrei bisogno di qualche dettaglio fermo restando che secondo me questa situazione è già abbastanza esplosiva da poter suonare l'allarme e darsi da fare quindi Stefano barra Federico mi potete dire che cosa avete fatto fino adesso per tenere a bada questa muffa? Abbiamo provato con prodotti fatente a tema in vano si tratta di casa vacanze ma questa casa si trova a Rozzano quindi confermatemi però se è una casa vacanza Federico il problema è che non è abitata spesso quindi magari non è scaldato non è rieggiata in maniera sufficiente quindi qui avrei un milione di domande da farti sì leggermente fuori ma quella è la zona perfetto conosco perfettamente ho degli amici frequento quelle parti e che dirti qual è il tuo obiettivo di questa cosa di aspettare quando la stagione delle case vacanze parte risolvere il problema e nel mentre la muffa si mangerà tutto l'appartamento o saresti disposto a investire qualcosina per tenere ferma questa muffa fermo restando che dovrai fare un intervento un po' più importante perché hai degli evidenti sbalzi di temperatura dove si formano le macchie se tu avessi qualche foto in più da mandarmi sarebbe stato utile però è talmente evidente sia che ci viviate voi che ci mettete delle persone che vi possono lasciare delle pessime recensioni non sarebbe il caso di mostrare una casa del genere e il vero problema ragazzi è che se voi pulite con candeggine pitturate con l'antimuffa cosa che sarebbe magari naturale fare fra 20 giorni vi ritrovate lo stesso problema perché qui c'è il punto freddo tra le giunture delle due pareti ma basta il prodotto si può fare qualcosa di definitivo allora cara elena noi di mestiere risolviamo in maniera definitiva problemi di muffa da condensa però il problema è che tra risolvere il problema e di metterci una pezza ci sono tanti soldi di differenza il prodotto di cui vi parlo sempre che vi dà una mano temporaneamente per bloccare la muffa piuttosto che usare la candeggina costa dei 50 euro in su è un ottimo rimedio se voi prendete la muffa in tempo cioè prima che diventi un disastro scusate controllo lo schermo arrivo anche da francesco se voi bloccate la muffa in tempo e non a questo stadio potreste cavarvela con 50 euro ma se mi presentate un problema di muffa gravissimo ovviamente non basta più mettergli la tachipirina per abbassare la febbre devo anche capire come mai questo fenomeno si presenta quindi il prodotto liquido antimuffa naturale andate sul sito e vi leggete la scheda tecnica se vi piace l'idea di un prodotto concentrato che non fa male alle persone bla 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 se avete un problema di muffa grave tipo quelli che staranno arrivando ora in live vedo vedo la prossima foto che mi aspetta che è ancora peggio avete bisogno di una soluzione completa cioè non soltanto qualcosa che tolga la macchia giovanni mi chiede ma cernusco su naviglio è un negozio fisico no ci abito io noi non abbiamo un negozio fisico spediamo i nostri prodotti in tutta italia quindi significa che non dovete venire da nessuna parte vi arriva il prodotto a casa qualora lo ordinate ve lo porta lo stesso corriere che consegna i pacchi di amazon tanto per capirci roberto incredibile stasera sono tutti quelli di cernusco e pioltello i miei paesani io sono di pioltello io sono originario di pioltello però in realtà non posso consegnarti il prodotto a mano te lo spediamo a casa però roberto non è quello il problema se lo reputi utile lo lo puoi ordinare ti arriva a casa come tutti gli altri prodotti vado avanti a leggere le vostre domande e poi passo federico barra stefano siete ancora lì avrei voluto un qualche feedback da parte vostra anch'io la muffa sul computer non è che fa cortocircuito non lo so se sei serio Anthony ma se non ci metti acqua sull'elettricità la muffa ti può solo rovinare la salute ma non dovrebbe rovinare il computer andiamo avanti abbiamo francesco che spero sia ancora in live che è il prossimo in lista d'attesa fantastico ragazzi stiamo facendo una roba pazzesca la foto è piccolina è francesco va bene allora mi è appena arrivata questa immagine e vorrei che chi me l'ha mandata mi raccontasse un po la storia perché è abbastanza agghiacciante potrebbe essere un soggiorno una cucina che una finestra rivolta all'esterno e la muffa si è mangiata tutto quanto anch'io sono di zona qua la muffa ci divora come procedo per i casi gravi mamma mia ragazzi allora approfittate dell'opportunità mandatemi delle foto a questo indirizzo email segnatevelo ciao ilenia e ci messaggiamo via mail non mi aspettavo innanzitutto di trovare persone di milano così in abbondanza considerate una cosa noi abbiamo due approcci per lavorare clienti da tutta italia non posso venire evidentemente a casa di qualcuno se abita in sicilia facciamo la nostra analisi a distanza se cliccherete sul link in bio e vi andate a leggere la pagina scoprirete che potete richiedere una videoconsulenza potete comprare il prodotto se avete una piccola situazione ma il nostro lavoro è quello di capire il problema dei nostri clienti e dare una soluzione tipo per un caso del genere l'antimuffo io lo posso comprare magico è sì certo che lo puoi comprare qui c'è la pagina che racconta tutto grazie quindi voi dovete immaginarvi che avete un piccolo mal di pancia no avete due scenari potete andare in farmacia e chiedere un po di malox ve lo danno vedete come va questo è il mio malox oppure potete andare dal dottore farvi visitare il dottore vi fa una prima visita ha dei dubbi vi manda dallo specialista vi fa fare le analisi del sangue quelli siamo noi noi poi ci occupiamo di fare delle analisi più approfondite per casi molto gravi tipo come potrebbe essere questo ma il nostro amico si è dileguato allora potrebbe esserci l'utilità di un mio sopralluogo direttamente a domicilio per fare un'analisi più approfondita ma non è così importante perché se la stessa foto arrivava dalla sicilia noi facciamo il nostro lavoro e il problema lo risolviamo anche a distanza quindi quando qualcuno investe 200 euro per avermi a casa non lo fa perché per lo sfizio vediamo sto tizio cosa dice perché potrei fare lo stesso lavoro per la metà dei soldi facendolo a distanza quindi le 5 10 persone in provincia di milano in lombardia dipende la gravità del problema martedì devo andare a bergamo per esempio che hanno un problema davvero grave e visto che non sono così lontano posso andarlo a vedere hanno una situazione che se la portano dietro da tanti anni se siete alla prima muffa non sprecate soldi su di me investiti soldi magari su un prodotto per esempio però tutte queste decisioni o vengono scelte fai da te dove ognuno si prende la propria responsabilità e vediamo come va a finire arrivo maria oppure si consulta con noi decide che investire 50 euro per un'ora di videoconsulenza con il nostro tecnico può essere una buona idea e lo potete fare comprandolo direttamente dal nostro sito c'è dappertutto insomma per tutto il resto chi ancora non ha fatto non ha fatto la gavetta secondo me nella lotta contro la muffa è giusto che vada in un centro commerciale in un colorificio si fa consigliare prova le persone che ci chiamano non hanno già approvato hanno già investito tanti soldi e evidentemente non ne possono più adesso parliamo di maria che mi dice situazione disperata ragazzi ma stasera siamo messi abbastanza maluccio ci sei maria questa è una situazione al piano di sotto dove purtroppo la muffa si è presa il soffitto per le travi portanti quindi c'è ci sono dei non c'è il tetto qua qui ci sono il piano di sopra maria ti chiederei di scrivermi un messaggio per confermare che l'immagine è la tua e la muffa se ne sta andando dappertutto ma è possibile che io ho una casa in classe A da un anno con vmc riscaldamento a pavimento e muffa immagino aspetto che finisci la tua domanda ma sì certo purtroppo sì le case nuove o molte case che hanno fatto il 110 in maniera spregiudicata ahimè hanno molti più rischi di una vecchia casa perché la casa è troppo sigillata pareti in cartongesso un disastro quindi anche per me è molto difficile intervenire perché se tu hai la muffa nascosta dietro il cartongesso e non hai voglia di smontarlo perché hai pagato un sacco di soldi per averlo è un po più complicato che non vuol dire che mi devo tenere la muffa però significa che ripeto non è un lavoro di chiamolo in bianchino pitturo tutto e va tutto bene non so se hai fatto già dei tentativi meli per cercare di risolvere questo problema ma la cosa che vi dico sempre ragazzi di fronte a situazioni del genere o anche più lievi noi domani mattina dobbiamo uscire di casa e andare a prendere qualcosa perché questa situazione è abbastanza pericolosa per la nostra salute esce il costruttore ci deve pensare lui speriamo che se ne occupi insomma però veloce perché ripeto le persone che hanno a che fare con la muffa si possono ammalare quindi assolutamente digli che se no se la vedrà con il tuo avvocato se uno ha fatto una costruzione nuova una ristrutturazione c'è una garanzia di 10 anni e poi ovviamente ogni contratto è diverso da un altro ma hai ragione non esiste questa cosa allora ragazzi se mi mandate le foto però dovete anche restare per poterne parlare moni sto mandando le foto via mail ok mi dovete scrivere però anche nella mail il vostro nickname in modo tale che vi identifico quindi qui la nostra maria non si è presentata e vado avanti ho una gemma che spero che sia presente vediamo un po perché se no ragazzi non riusciamo a contestualizzarla ciao per l'analisi muffa in live basta mandare semplicemente una foto sì se mi mandi una foto e mi dici ciao sono spike mi scrivi cinque righe scrivimi tutto quello che devo sapere da quanti anni il problema che cosa hai tentato di fare eccetera eccetera e così evito di aspettare nei commenti quindi si dettagliato scrivi un papiro ma a me quello che interessa è da quanto tempo avete il problema e cosa avete cercato di fare e da dove mi state scrivendo poi ce la discutiamo allora moni mi racconti un po questa situazione in teoria sei candidabile per far parte della mia rubrica muffa da incubo perché qui abbiamo una parete che non so se è coperta da un armadio angolo muri freddi dove si sta formando un sacco di muffa e una situazione piuttosto esplosiva qui c'è un mobile evidentemente gemme la mia mail casa nuova ok e riscaldamento a pavimento ma ragazzi ma come possono succedere queste cose ora rimango anch'io abbastanza basito di solito ci aspettiamo che una casa vecchia sgangherata possa avere di questi problemi avete avete pagato un architetto un ingegnere un progettista per far sì che questo fenomeno non doveva succedere poi si gestisce tutto però capisci che dopo che hai fatti i lavori a casa nuova arriva il giuseppe di turno e ti dice adesso ci vogliono altri 2000 euro per risolvere perché t'hanno fatto male i lavori ti girano un po quindi il fatto che tu abbia un armadio davanti su una parete fredda è già automatico in qualunque casa vecchia nuova che sia rischioso ovviamente se noi non possiamo mettere più gli armadi nemmeno sulle pareti rivolte all'esterno praticamente mezza casa dobbiamo lasciarla scoperta ovviamente no però quello che posso dirti è si può anche arrivare a una conclusione a una soluzione ma può darsi che dobbiamo togliere il pannello dietro l'armadio dobbiamo mettere una costosa vermice termica sulle pareti dobbiamo controllare il tasso di umidità quindi volevo semplicemente dirvi approcciatevi con me nella maniera giusta non che sono la vostra ultima spiaggia speriamo che mi dà il consiglio giusto faccio e risolvo quando ci sono situazioni del genere bisogna fare un'analisi perché altrimenti viene viene qualcuno a guardare ti dice mettiamo questa pittura vediamo come va e infatti nella nostra videoconsulenza che vi ricordo costa 50 euro per le urgenze perché non abbiamo tempo per gestire casi che non siano urgenze da risolvere in 20 giorni stiamo un'ora a chiacchierare con queste persone per cercare di capire tutto ciò che è avvenuto se sono stati fatti degli errori eccetera eccetera e molte volte si ricostruiscono vicende dove i puntini si uniscono letteralmente come un'indagine investigativa quindi scopriamo che c'era il mobile davanti la parete era più fredda ci sono due bambini si scalda male perché si tiene spento la mattina è acceso il pomeriggio tutte queste cose concorrono ad aggravare un problema che già viene viene peggiorato dall'armadio fondamentalmente vediamo un po' qui con me foto sono finite perfetto però se ti ritrovi moni questa questa roba sulle pareti e ci dorme qualcuno in questa camera non è assolutamente gestibile è molto molto pericoloso quindi il primo consiglio che ti potrei dare uscendo fuori dall'azienda che rappresento e tutte le belle cose entro due giorni questa roba deve essere risolta cioè deve essere almeno messo sopra un liquido chimico ecologico quello che vuoi ma non puoi convivere con questa cosa sperando che arrivino tempi migliori perché questa muffa è come un incendio più va avanti e più brucia e consuma e consuma pareti come hai già potuto vedere ho comprato il tuo prodotto per trattare la muffa di un'altra stanza ok e allora vuol dire che non so se ti ha già contattato michela che è il nostro tecnico specialista che si occupa del dopo liquido antimuffa qui bisogna fare un'analisi per capire che tipo di pittura anticondensa va messo a seconda di quanto fredde sono queste pareti quindi se hai già applicato il nostro liquido hai bloccato anche se le macchie di muro sul muro resteranno evidentemente hai ucciso la muffa in superficie hai qualche settimana di autonomia forse anche di più per poterti organizzare su come risolvere sarebbe interessante capire se il pannello di quest'armadio è da buttare cosa molto probabile e soprattutto se l'armadio sta in piedi anche senza pannello perché se tu mi rimette il mobile davanti si ammuffirà di nuovo il mobile vado avanti e se ecco per i prossimi qualora siate già clienti di vasta muffa scrivetemelo perché è inutile che io vi dica serve il liquido se ce l'avete già grazie moni allora per averci dato già fiducia per questo se l'hai già applicato mi farebbe piacere se ci raccontassi come ti sei trovata se hai sentito odori sgradevoli se è stato difficile eccetera eccetera e il patron del mal ho un terzo bagno con finestra che si trova praticamente nel garage per cui niente sole mi esce la muffa anche se il termo è acceso h24 ti invito se hai voglia di mandarmi qualche foto perché altrimenti posso essere molto generico è il patron e semplicemente tu puoi anche raccontarmi che apri le finestre e scaldi sempre ma se si forma la muffa nell'angolino e adesso passo alle mie di foto così vi faccio vedere non te la cavi quindi ci sono modi per far formare la muffa in maniera molto più rapida tipo questa se io prendo un mobile ci metto se un muro freddo gli metto sopra un mobile aumento la probabilità di formazione di muffa anche se ho i parametri tutto a posto cosa dovrei fare per non avere muffa dovrei capire il microclima come viene scaldata questa casa e con delle ottime vernici anticondensa con un trattamento completo sotto noi risolviamo e abbiamo risolto questi casi che vedete voi cioè si risolvono anche muffe da incubo così semplicemente bisogna studiare il caso e non andare a intuito e comprare un prodotto a casa in colorificio e metterlo sul muro a meno che non si accetti di fare una prova allora uno dice beh fatto una prova come va va però il problema è che vanno via molti soldi quindi molte persone che hanno speso tantissimi soldi nell'arco degli anni quando gli abbiamo chiesto che ne so i 1500 euro che erano necessari per fare il loro intervento chi non ha mai fatto nulla può dire sei fuori di testa chi ha buttato via migliaia di euro in armadi vestiti trattamenti e si dice con 1500 euro la risolviamo dice così poco quindi dipende qual è il vostro problema non è detto che tutti dobbiate diventare i miei clienti perché altrimenti sarebbe ingestibile noi ci occupiamo di delle persone che hanno un'emergenza e che vorrebbero risolvere senza utilizzare prodotti tossici e non sono così tante le persone che hanno magari questo approccio un po lungimirante nel dire sì la muffa la posso anche levare con la candeggina in bianco con la con l'antimuffa ma risolvere definitivamente è un altro mestiere qual è il tasso di umidità corretto non è non è l'espressione giusta ideale dovrebbe essere intorno al 50 55 per cento però la muffa si può formare lo stesso con il tasso di umidità al 50 per cento se ho delle zone freddissime semplicemente cresce un po più lentamente rispetto a se ho il 70 quindi l'umidità è un parametro fondamentale noi prima cosa piazziamo il nostro il grometro a casa del nostro cliente studiamo un po le sue abitudini però anche se emerge che al 50 per cento ma una muffa terribile non è che la muffa non si può risolvere il pannello di compensato se lo è divorato mi state chiedendo tutti sul tasso di umidità ve l'ho detto è il 50 per cento ma è un valore assolutamente inutile se io già muffa in casa quello che conta ripeto è che non sia troppo alto ma se la muffa è già presente devo tenerlo un po più basso ma devo inventarmi anche qualcos'altro letteralmente l'ho già trattato ma volevo risolvere eccetera eccetera ce lo siamo tolti il tasso di umidità direi no ragazzi ok se la muffa nel muro è sempre se la muffa nel muro sempre in cartogesso dove dietro tale muro c'è la cassetta del vc può essere condensa innanzitutto cara meli non vorrei metterti ulteriore angoscia oltre quella che hai però il tuo problema in realtà non è semplicemente vado nella cartella che mi serve scusate allora arrivo ho bisogno di muffe pannelli esempio questo signore che è un caso limite si è fatto convincere a mettere il pannello di cartongesso gli si è formata la muffa nelle giunture probabilmente sta anche dietro quindi una volta che la muffa mi attacca il cartongesso io come faccio a come dire accontentarmi di levare questo alone nero quando dietro c'è un disastro e te lo faccio vedere in un'altra foto questo signore aveva l'abbassamento di soffitto estetico del bagno ha cambiato il faretto ha intravisto delle macchie nere aveva tutto il soffitto nero e la colpa è stata di questo lavoro che su un soffitto così freddo ha portato la formazione di muffa e condensa se non c'era il cartongesso non avrebbe avuto problemi quindi il vero dramma e vado a farvi vedere qualche altra foto e quando hai il cartongesso pensando che non ti accadrà nulla e ti succede che la muffa sopra e sotto ve ne faccio vedere un'altra e poi torniamo al nostro tema questi ragazzi avevano il cartone dell'abbassamento di soffitto estetico si era un po di muffa e poi tagliando abbiamo scoperto che c'era un disastro che sul tetto di questo cartongesso c'era questa muffa qua quindi per me il cartongesso è il mio peggior nemico e io ho molta fatica a risolvere problemi se devo pure contrastare il cartongesso che non mi fanno togliere moni facilissimo applicare zero odore la macchina rimasta ma spero che abbia bloccato la diffusione assolutamente questo prodotto innalza il ph del muro dove l'hai messo ha un valore indivibile per la muffa che non vuol dire che sarà così per sempre ma per un po' sei a posto non è la soluzione del tuo problema per un caso come mi hai mostrato adesso hai bisogno di ben altro però ci stai lavorando però se io la muffa mi accontento di levarla con la candeggina perché sbianca un po di più è come se io sto prendendo delle erbacce tutto tagliando la parte visibile e poi l'erbaccia ricresce di nuovo se avete avuto un'esperienza simile con la candeggina non vi sto raccontando niente di nuovo però quello che sto imparando in queste tantissime live che faccio tutti i giorni e che non c'è un caso di muffa uguale a un altro quindi l'approccio tradizionale del vado mi compro qualcosa e la porto a casa e va benissimo ma che questa cosa mi possa dare una soluzione alla lunga non è sempre vero e quindi a volte ci troviamo con persone che hanno speso un sacco di soldi come voi e il problema si è rappresentato il calorifero a che temperatura per non fare uscire la muffa ginevra non c'è una temperatura quello che interessa è che la temperatura sia più costante possibile se tu mi tieni 18 gradi h24 hai meno rischio che ti si forma muffa che spegnerli la mattina e metterli a 20 il poveriggio questo lo dico e lo ripeto fino allo sfinimento molti non lo accettano perché credono che si spenda di più se voi avete una temperatura costante complicate il lavoro della muffa se accendete spegnete in maniera intermittente siete più a rischio e non è più una questione di temperatura se è calorosa lo lascia 17 gradi 17 gradi dalla mattina alla sera è molto più efficace che avere 12 e 18 12 e 19 infatti io con questo orologio quando il mio cliente mi paga la bellezza di 150 euro per fare un'analisi a distanza glielo mando a casa questo orologio annota tutto e la sera facciamo il controllo e ci dice quali sono stati i valori minimi e massimi e non sapete quanta gente ho smascherato che scaldava male casa è arrivata una mail vediamo un po io sono sempre contento perché mi sembra quasi che arriva a c'è posta per te qualcuno o il mitico spike benissimo allora abbiate pazienza ma sono su due schermi e sono un uomo e non sono multitasking però ce la faccio salvo effettuando un'opera di cappotto esterno si risolve in parte questo te lo deve dire il progettista e l'azienda a cui stai dando un sacco di soldi e però te lo dico già io no perché il cappotto esterno aiuta ad avere meno freddo ma le giunture dove si forma la muffa è un'altra musica allora sono spike di tiktok in queste foto ci sono diversi punti della casa alcune sono pareti interne altre sono esterne sono in affitto piano terra mi è stato detto che muffa da risalita non c'è una vera soluzione ho imbiancato fantastico i casi che piacciono a me vediamo un po cosa ne esce fuori aspetta che me la guardo prima così mi preparo il discorso eh sì questa è abbastanza problematica allora fantastico allora spike mi hai scritto che sei in affitto primo problema i padroni di casa non risco non riconoscono mai problemi che si sono formati quando loro non ci vivevano dentro danno sempre colpa agli inquilini dicono quando ci vivevo io non succedeva mai nulla bene andiamo avanti monemice sbiancato primo tema da qua non si vede granché qui andando avanti c'è un pochino di muro sgretolato ed effettivamente è compatibile col tema dell'umidità dell'isalita poi le foto non sono chiarissime hai dei puntini di muffa qui è diverso perché l'umidità dell'isalita porta sali dal terreno e non c'è muffa visibile perché quello è un fenomeno di sgretolamento qui ci sono dei puntini magari a furia di vera umidità si è formato un po' di muffa può darsi che questa la pulisci con non da candeggina con un'antimuffa e non torna più poi qua si fa un po' più complicato perché mi devi spiegare che cosa stiamo guardando che cos'è questa roba qua è una macchia di muffa stai sul pezzo così mi rispondi subito ho scritto sopra in altra cosa ok scusa ma questo lavoro va fatto meglio d'estate e tutti e tu lasceresti questa muffa crescere in casa tua perché non hai voglia di farlo adesso perché vuoi aspettare una temperatura più calda si vede che non ti è mai capitato di avere un problema di muffa da incubo in casa e non te lo auguro a questo è un pannello piazzato del termosifone questo saranno i segni di colla allora mi viene da pensare o a no è a rilievo perché avete messo un pannello dietro il termosifone è abbastanza ghiacciante la cosa perché poi non non respira è stato appoggiato sopra solo che io quello che non capisco è se questa è un'ombra o è muffa era già lì ok è muffa questa roba che c'è sopra il pannello perché mi sembra veramente tanta mentre vado avanti con le foto ok qui si vede da più lontano mamma mia quindi il termosifone il pannello sta lì dietro la muffa si è formata sopra il pannello quindi questo è un ulteriore conferma di l'inutilità poi lo hanno fatto per disperazione se queste persone mi avessero chiamato prima con due spicci mettevamo dei materiali termici dietro il calorifero rifletteva il calore ci avremmo veramente speso molto poco il pannello adesso sta ingigantendo il problema la muffa è sotto quella nera mamma mia e adesso che si fa adesso devi smontare il termosifone disinfettare il pannello toglierlo rifare un intervento proprietario di casa non lo farà mai e ti lascia qua inguaiato quindi qui si è seguita la linea di condotta che quando non sai cosa fare con la muffa metti i pannelli e purtroppo mi confermerai che immediatamente sopra dove è stato messo il pannello sta iniziando a crescere qualcosa però in questo caso non credo che sia muffa ma sono quelle che chiamano efflorescenza che sono le conseguenze di quello che sta capitando faccio prima a cambiare casa assolutamente sì cioè nel senso che è esagerato però se tu adesso devi entrare in un ordine di spese continue non lo so però ovviamente se sei scelto questa casa vuol dire che ti piaceva e volevi restare qualche anno quello che posso dirti è se fosse casa mia in questo momento qualcosa sopra qua ci butterei se vuoi vai in colorificio con 20 euro prendi l'antimuffa chimico se vuoi con 50 euro puoi prendere l'antimuffa naturale però in tutte le zone dove hai delle macchie nere devi bloccare insomma grazie delle risposte domani scriverò la ragazza vedrai che michela è fortissima e ti darà un grandissimo supporto e le immagini sono finite quindi mi pare di se dovessi fare un bilancio di quello che mi hai raccontato è se non aveste messo se non avessero messo un pannello sul calorifero qualche macchia di muffa si formava lo stesso ma non avrebbero avuto il problema il resto è umidità di risalita che però non ti crea problemi di salute se si sgretola un pochino ora il tuo compito è nella porzione di calorifero dove puoi arrivare disinfettare e metterci un po di bianco sopra perché questa roba è pericolosissima non so poi in quanti caloriferi ti si forma questo fenomeno comunque io vi ringrazio perché mi date sempre comunque la possibilità di studiare nuovi casi di muffa ora vado a rimpicciolire la finestra perdonate la goffagine ma è la prima volta che faccio questa roba delle muffe in diretta però mi piace molto perché mi sento molto più utile rispetto a quando faccio solo vedere le mie foto però mi devo organizzare meglio perché sto guardando due schermi state lì eh quindi tornando alle mie di muffe in attesa che arrivino delle vostre muffe nuove non è che sono tanto diverse rispetto a quello che vi faccio vedere e quindi io come sempre racconto che su questi casi dopo aver fatto delle indagini cioè il tema è vi dico che cosa succede se voi ci contattate come va a finire così decidete se ne vale la pena perdere tempo con noi o no voi tramite link in bio potete mandare gratuitamente le foto al nostro staff il nostro staff guarda vi fa cinque domande fondamentali per capire il vostro problema e vi dice allora guarda se il problema è lievissimo vai nello shop con 50 euro ti compri il liquido antimuffa naturale ma dobbiamo essere certi che non stiamo facendo sprecare soldi perché non ce ne importa di vendere mille di questi prodotti se poi il problema non si risolve se vediamo situazioni tipo quella di spike e degli altri che mi hanno fatto vedere diciamo ti consiglierei di investire 50 euro per parlare con il tecnico e farti fare una diagnosi avere un preventivo simulato di quello che potrebbe essere un paio di scenari voglio l'intervento definitivo 2000 euro no troppo non mi piace voglio tamponare dignitosamente per un paio d'anni 500 euro ok scelgo oppure mi compro il solito liquido antimuffa oppure non faccio nulla quindi noi dobbiamo capire se lo scenario che ci viene proposto che ne so questo è un qualcosa che dobbiamo analizzare di più oppure diciamo al cliente noi non ce ne occupiamo perché vendere una bottiglina di questo prodotto per togliere un pochino di muffa qua vuol dire a mio avviso senza dare ulteriori dettagli al cliente rubargli dei soldi cioè è vero che il prodotto sarà attivo dove lo metti ma se hai un problema così grave stiamo giocando come quando uno mi compra lo spray da 10 euro e me lo spruzza qua e dice ho tolto un po di muffa quindi dobbiamo capire se vogliamo per finta togliere un po di macchie di muffa e tenerci qualche euro in più in tasca oppure smettere di continuare a spendere soldi se il nostro problema è davvero grave ma non è sempre così ragazzi quindi non è che tutte le muffe del mondo diventano da incubo quelle che gestiamo noi sì purtroppo grazie dei chiarimenti a mitico due risate ci troviamo sempre sui su tik tok spero di averti dato qualche indicazione anzi ti dirò di più c'è una novità se mi mandi in questa mail adesso la foto della tua muffa ti becchi una pseudo consulenza gratis da parte del sottoscritto che di solito costano 100 euro l'ora quindi ragazzi a parte gli scherzi approfittatene per me piuttosto che stare seduto sul divano e guardarmi la televisione che lo farei anche volentieri mi è utile fra virgolette smaltire o alleggerire le vostre richieste che mi fate in tantissimo in privato sui social per darvi qualche idea in modo tale che da domani mattina dalle 7 del mattino che mi alzo avrò una giornata pienissima e dovrò gestire le richieste in corso domani pubblicherò un video di una coppia di modena che ha deciso di applicare il nostro trattamento abbiamo fatto dieci giorni serratissimi di analisi hanno spostato il mobile e non ci non ci aspettavamo così tanta muffa questo è un altro degli degli scenari più brutti che possono capitare tu sei convinto che tutto a posto vede una macchia di muffa sopra e poi succede quello che succede se spostate il mobile vedete una macchia del genere non andate a spolverarla o aspirarla col dyson quello è il sintomo di un problema va affrontato poi se coscientemente non me ne importa nulla e rimetto tutto a posto ora che avete parlato con me mi avete conosciuto almeno lo sapete non avete più l'alibi se uno non lo sa perché in buona fede non lo sa va bene quindi sappiate che avete due possibilità ragazzi o mi seguite o mi bloccate perché raccontandovi le disavventure dei miei clienti vi dico come è andata a finire ciao francesca finalmente scopro il tuo nome ti ringrazio della proposta compro la videoconsulenza conferenza no se no ci sono i politici del mondo comunque a parte gli scherzi nel giro di un giorno massimo due francesca avrai l'appuntamento con il tecnico o meglio se tu trovi un buco nell'agenda domani ci parli anche domani con michela o se se servirà entrerò in ballo anch'io quando abbiamo fra virgolette troppe richieste da gestire però il tema è se non vediamo faccia a faccia il problema non ci confrontiamo possiamo ipotizzare così tanto facciamo i cugini della situazione è possibile risolvere un problema di muffa con un climatizzatore allora mattia se la tua aspettativa è che il climatizzatore scaldando elimina le macchie di muffa ripristina pure il bianco ovviamente sto facendo lo spiritoso e questa vorrebbe essere una soluzione purtroppo no se invece mi dici giuseppe dopo che io ho eliminato la muffa con un trattamento adeguato dopo che ho messo dei materiali termici sulle pareti per risolvere il ponte termico posso scaldare in maniera omogenea caso controllare il tasso di umidità con un climatizzatore sì però incide il 5 per cento del tuo problema quindi poi non averlo o non averlo il tuo problema muffa resta quindi no si risolvono problemi di muffa col climatizzatore con la stufa pellet con la ventilazione meccanica i problemi si risolvono andando ad affrontare la muffa dove sta sul muro non soffiandole un po di aria calda perché semplicemente si riformerà ciao salvatore nostro amico sabi cripto è uno dei più accaniti fan e follower e non che anche cliente di basta muffa perché stiamo mettendo i prodotti in casa apemia sposto all'armadio la muffa sposto armadio parete muffa che faccio basta il liquido se mi posso permettere cara apemia hai la possibilità di chiedermi senza costi di mandarmi la foto della tua muffa e te lo dico in diretta se riesci a farlo se come se vale la pena o no io non devo spingere nulla ragazzi se tu c'hai un problema di muffa tipo una roba del genere e mi dici basta mettere il liquido e non faccio altro e io ti dico no ha bisogno di più però in realtà il risposto alla tua domanda è il liquido senza pulire prima assolutamente se io vado a strofinare la muffa pensando di toglierne la patina così mi sento più a posto con la coscienza sto diffondendo le sport della muffa sono pochi gli errori che facciamo inconsapevolmente ma quegli errori che facciamo aggravano la situazione grattare la muffa con carta vetrata spolverarla aspirarla metto lo swiffer usare il diumidificatore soffiare aria sopra quelle robe lì fanno proprio il gioco della muffa e peggiorano il problema infatti ogni tanto le muffe poi da una stanza passano all'altra e il mio cliente mi dice ma non so come mai è capitato poi lo interrogo lo torchio tipo interrogatorio del detective americano col faretto in faccia ed emerge fuori ciò che è successo tipo è nato è arrivato un nuovo bimbo in casa e quindi i primi mesi abbiamo acceso l'umidificatore per mantenergli un'aria un po più umida dal momento in cui è successo questo nella camera da letto si forma della muffa ti mando in pvt foto sì io le mando in live quindi sappi che la tua muffa diventerà di dominio pubblico però si parla di muffa poi sei tra amici quindi come avete capito il mio obiettivo è capire chi mi chiede aiuto se posso dargli una soluzione a basso costo che però gli dà un vero aiuto questa qua oppure se devo fare un supplemento d'analisi o ritirarmi perché se le persone sulla base di un anche questa un'immagine del genere mi dicono che cosa devo mettere io gli dico non lo so non vendo nulla perché il problema è abbastanza serio se c'è una macchettina di muffa ti dirò usa il liquido naturale ciao giuseppe ma sei sposato non ancora andiamo avanti alessandro ho cabina armadio cieca che non è della repubblica cieca ma sarà cieca e vi si sta muffendo tutto dentro devo per forza smontare tutto te lo dico con un esempio ti faccio vedere una cabina armadio dove ahimè le cose non sono andate bene magari non è la tua e magari la tua cabina armadio è non è murata ma è libera però quando sono andato a vedere questo lavoro mi pare cinque anni fa e i vestiti avevano la forfora verde eccetera eccetera lì ormai era un po troppo tardi quindi si sta muffendo tutto dove ci sono i punti che amuffisce bisogna smontare cose se vuoi come ho detto a tutti ricordatevi questa sera potete mandarmi le foto adesso e ne parliamo insieme perché altrimenti ripeto è come essere al bar dello sport io ti direi che dovresti smontare tutto perché non c'è un modo per renderti il boccone meno amaro la muffa c'è si sta mangiando tutto l'hai detto tu cosa pensi di fare io ho sempre usato il ciclo strilsan non lo so non lo conosco se il tuo ciclo è a base di prodotti naturali non ha etichette di pericolosità ma non esiste un ciclo uguale all'altro tra l'altro francesco noi abbiamo sette prodotti diversi e il nostro obiettivo con i nostri tecnici è capire la gravità del problema e dare la medicina giusta quindi il mio ciclo si può essere composto da infinite combinazioni non ho il ciclo già predisposto con l'etichetta del prima metti il liquido poi metti il fissativo poi metti la pittura il mio mestiere è diverso perché la vernice è mia l'ho creata io me la sono fatta fare sulla mia ricetta e quindi decido io quello che devo fare non devo seguire l'azienda che mi suggerisce il ciclo a volte basta un prodotto a volte ce ne vogliono quattro tanto per capirci sono arrivate delle foto da marco allora saltiamo subito e direi che questa cosa sta piacendo non è semplice da gestire ma lo faccio molto volentieri e vediamo un po cosa ci ha scritto marco purtroppo la casa è piena di quella muffa iniziato tutto dal bagno si è propagata in tutta la casa ragazzi ma andiamo tutti all'urde stasera non mi capitavano mai situazioni del genere ora a parte gli scherzi massimo rispetto per il vostro problema spero di esservi di aiuto però marco mi ha mandato questo nel mentre vado a vedere dei commenti tengo acceso bla 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 sui 70 va bene anche per l'umidità di risalita no l'umidità di risalita è un'altra cosa mi dispiace soul man oicos sterile sun non lo conosco basta leggere la scheda tecnica nei giorni freddi scende sul 50 immagino stavamo parlando di temperatura io voglio parlare con marco che è colui che mi ha mandato le foto quindi marco se ci sei batti un colpo se no parlo di te in tua assenza jimmi se pulisco prima con candeggina e poi prodotto antimuffa perché perché volete fare questa cosa non dovete levare la macchia esteticamente poi usate l'antimuffa come se non serve a nulla si va direttamente con l'antimuffa sul muro non ti devi preoccupare della macchia la muffa è morta in superficie poi ci passo il bianco sopra questa è una roba che è difficilissima da scardinare molti mi hanno detto ma dopo il tuo liquido naturale posso mettere la candeggina e io ogni volta che qualcuno mi dice una roba del genere perdo un anno di vita ragazzi ormai mi state abbreviando l'esistenza non so quanto mi resta però ripeto la candeggina si usava 50 anni fa quando la nostra nonna aveva una casa enorme senza infissi sigillanti senza cappotto e senza tutte queste belle comodità e bastava la candeggina per risolvere adesso no quindi basta questa candeggina ma nel 2024 è un po' superata anche se sono controtendenza perché moltissimi la difendono c'ho gli hater io della candeggina ragazzi che ne sapete voi giusto per per rimuovere macchie nere no questa è una roba viva se ti si ammuffisci il cibo nel frigo altro che pulizia lo butti via non te lo mangeresti to questa è una muffa che lo raccolti in una provetta andando a casa di un cliente strofinandola con un tampone e l'ho fatta crescere qua ci penseresti mai di pulirla con candeggina che è un organismo vivente penso di no quindi state attenti ragazzi ve lo dico per voi in foto non si vede nulla l'odore si rovinano le cose è la muffa senza l'odore di muffa senza muffa è complicato vado avanti sperando che marco si sia palesato marco guidaci allora innanzitutto marco dimmi se sei tu il marco di questa foto deduco di sì robert ho appena comprato il liquido antimuffa ok se poi vuoi mandarmi una foto del problema facciamo una roba carina così vediamo anche dove si mette che ore sono le otto vediamo non so se voi avete cenato io ancora no ma ho fatto merenda abbondante allora marco guardo un po' di foto poi se magari nel mentre mi puoi spiegare cosa c'è qua abbiamo il classico la classica striscia nera di muffa tra parete e soffitto qua poi c'è un altro alone dove magari c'è un po' di condensa ma non così tanta come qua c'è la muffa vi sta dicendo in maniera chiara dove si mangia meglio e quando già vedete la muffa negli angoli già bisogna scartare liquida antimuffa pittura antimuffa perché tornerà sempre dovete rivolgervi o a me o a qualcuno che vi venda delle pitture anticondensa segnatevi questo nome non ve lo togliete più dalla testa questi sono buffe da condensa ci vogliono dei trattamenti anticondensa con due palle così perché se io metto la pittura più economica anticondensa aumento la temperatura di questo muro di mezzo grado non resisto a lungo però già va meglio quindi questo per dirvi che se ci troviamo in situazioni del genere qui siamo sulla stampante ok cioè quando ci troviamo in situazioni del genere la muffa ti sta dicendo ci sono le travi importanti che sono più freddi il soffitto è tutto freddo e mi sto diffondendo dappertutto quindi non è sufficiente una pittura perché all'amico che aveva la muffa in casa ce l'ha fatta di fronte a una cosa del genere vi posso dire l'esperienza di 20.000 casi visti in dieci anni hanno tutti la stessa situazione e richiedono tutti la stessa situazione soluzione poi ripeto uno poi può decidere che per un bagno non ne vale la pena spendere 800 euro perché una cifra folle ha diritto di pensarlo come può anche provare a mettere una pittura anticondensa almeno devi uscire di qui che io senza averti chiesto nulla ti sto dicendo guarda questo è ciò di cui hai bisogno e non perdiamo tempo piuttosto poi magari la pittura anticondensa dura non abbastanza ma per un po' resistiamo quindi vediamo se c'è dell'altro luca ho avuto problemi in bagno per troppa umidità pulito tutto e vado di umidificatore sperando che non torni daniela mi scrive pulire con l'aceto l'aceto non ok marco sei marco benissimo pulire con l'aceto daniela è molto meglio che pulire con candeggina ma non ha nessuna efficacia sulla muffa se marco provasse a pulire con l'aceto qua al di là che spalmerebbe questa macchia non avrebbe nessun risultato quindi c'è gente che anche con lo straccio ha levato la patina superficiale della muffa e la muffa non è riuscita più riformarsi perché non c'era la gocciolina d'acqua va bene non muore nessuno però di fronte a situazioni del genere è un po' più complicato quindi marco a me manca un po' il contorno di tutta questa storia vedo la classica muffa da incubo e volevo capire meglio qualche dettaglio per poterti dare d'aiuto sono qua a tua disposizione approfittano insomma quindi di fronte a una situazione del genere se tu domani mandassi le foto al mio staff ti chiameremmo ti faremmo un paio di domande ti diremmo marco sì abbiamo il liquido antimuffa ti possiamo anche dare la tanica grande ma fondamentalmente dovremmo fare un'analisi più approfondita l'analisi più approfondita che capisco che uno dice ma perché devo spendere 50 euro quando io con 50 euro mando la famiglia a mangiare la pizza e mi compro pure l'antimuffa da 5 euro però ci serve per poter estrapolare tutte le informazioni e prendere le misure e fare uno scenario cioè prima di chiederti ti dico come funziona marco paghi 50 euro per fare la videoconsulenza poi devi pagare altri 150 per fare un'analisi approfondita ma noi non vendiamo nessuna analisi approfondita finché non ti abbiamo fatto delle simulazioni di costo che tu poi condividi in famiglia e dici ok questi mi stanno dicendo che se mi fanno un'analisi il mio scenario potrebbe essere tra i 500 e 1500 euro ok ci penso vedo valuto ti dico sì o ti dico no alla peggio ho fra virgolette investito 50 euro per parlare con uno che mi potrebbe dare delle informazioni che non avevo questo è il nostro lavoro se capita una muffa stupida e insignificante non ti facciamo fare una consulenza per dirti ah hai bisogno del liquido antimuffa naturale diamo il link ci pensi siamo in competizione con il resto del mercato se vuoi usare la candeggina userai la candeggina però di fronte a un'immagine del genere non è che bisogna avere ingolosirsi e vendere 50 euro per far prima e farti perdere tempo quest'anno c'è più muffa leonardo sì perché oggi per dire a milano c'erano meno 4 la mattina il meteo dice che ora arriva l'anticiclone delle azorre ci saranno di nuovo 10 gradi fra qualche giorno questi sbalzi di temperatura uniti a errori di gestione di casa e problemi strutturali portano alla formazione della muffa quindi quando uno ha un problema di condensa e isolamento termico ahimè potrebbe avere questo problema se ha la forza di pulire ogni settimana disinfettare e imbiancare potrebbe apparentemente tenere a bada ma è come che è un esercito che spinge spinge e riesce ad entrare poi lo sconfiggi poi entra da un'altra parte e lo respingi non è semplice ragazzi tanto saluto manuel di mg on painting che sono degli amici bianchini che seguo molto e vi suggerisco di iscrivervi al loro canale fanno dei bellissimi tutorial su come si imbianca fai da te in casa quindi marco la situazione è questa io vorrei sapere da quanti anni hai questo problema e come siamo arrivati a una situazione del genere per capire un po il contesto se sei ancora lì nel mentre prendo fiato è molto più impegnativo ovviamente usare il cervello e rispondere a tutte le domande e unire le informazioni di queste foto però ce la posso ancora fare quindi per me questo questo tipo di live è molto importante perché mi permette di farvi vedere farmi vedere all'opera anche se non sono io che faccio la videoconsulenza ma ho dei validissimi collaboratori e collaboratrici che se ne occupano però poi arriva anche il mio momento io sono quello dei casi da incubo vengo chiamato o di persona o a distanza per situazioni tipo queste quindi marco ricapitolando da 3-4 anni hai questo problema possiamo dire che si è formato in seguito a ristrutturazioni cambi infissi oppure vivevi la tua vita serena e improvvisamente quattro anni fa che mi sembra casualmente anche simile vicino all'epoca del covid perché quello che anche vi devo raccontare che un sacco di gente ha scoperto la muffa durante il lockdown io nel 2021 sono arrivato a un certo punto che pensavo che la mia azienda sarebbe diventata composta da 30 persone poi siamo rimasti in cinque sono contentissimo di questo perché a un certo punto mentre che voi eravate in lockdown io spedivo prodotti ero il titolare dell'azienda l'unico che usciva di casa ci siamo resi conto che avremmo avuto bisogno di nuovo staff tecnico l'abbiamo formato c'è stato soltanto questa parentesi lunga del 2021 dove c'è stato bisogno di supporto dalla panchina poi si è stabilizzato però molte persone hanno avuto muffa chi l'ha curata bene chi non l'ha curato bene da quel momento in poi come una malattia che sembra che passa e poi si ripresenta la muffa si è ripresentata quindi no all'improvviso abbiamo iniziato ad avere macchie di muffa nel bagno quindi top così posso un po' immaginare poi magari la muffa si è iniziata a formare in altri angoli e poi quello che il resto è storia che tentativi avete fatto marco per cercare di risolvere dimmi un po' i prodotti che hai utilizzato e ogni quanto tempo cioè ho pulito quattro volte all'anno con candeggina ho comprato lo spray antimuffa e durava sei mesi ho pitturato con l'antimuffa ed è durato due anni tutte queste informazioni servono perché dall'altra parte ti dovrebbero dare una cura un filino più forte di quello che hai utilizzato per esempio oggi nella live di stamattina c'era una persona che mi ha detto ho usato la migliore pittura termica e aveva la casa piena di muffa e anche gli ho detto salvatore ma non è possibile avresti dovuto risolvere cosa potrebbe essere andato storto non è messa abbastanza passate o tutto o eccetera eccetera quindi se io non so quello che è stato fatto prima non posso proporre la mia migliore soluzione sperando che qualcuno mi firmi un assegno in bianco io lo vorrei non smetterei di fare analisi se tutti comprassero il mio trattamento che potenzialmente come quando compri un computer gli metti tutti i pezzi migliori sopra costa che ne so 2000 euro a stanza ma non è il modo di lavorare ne hanno bisogno il 10 per cento dei miei clienti di quella soluzione tantissimi clienti hanno risolto anche solo con 50 euro ma devo sapere qual è il mio problema prima di dare soluzione abitiamo a piena terra sotto c'è uno scantinato sopra c'è un aspartamento allo stato rustico i primi anni abbiamo tamponato con sparenti muffa e candeggina all'inizio sembrava che il problema si fosse risolto ma dopo un po spuntava sempre la muffa non mi hai nominato la pittura marco in tutti questi quattro anni hai almeno una volta pitturato con l'antimuffa o hai sempre pulito scusa non ho capito la differenza fra la prima foto e la seconda ci sono due diverse soluzioni hai dato beh no allora qui stiamo guardando un unico caso che evidentemente avrà bisogno della stessa soluzione però in realtà la domanda interessante perché come potete immaginare anche dei miei quattro prodotti super qui ci sarà un modo di applicarli perché qui c'è un problema più grave e qui abbiamo questo angolo che deve essere attenzionato e il resto delle pareti che magari avranno meno passate di prodotto per esempio no non abbiamo mai pitturato con l'antimuffa ed ecco che qua me ne esco in maniera fra virgolette brillante e ti dico ragionevolmente a meno che tu non reputi che siano prodotti sprecati dovresti se viene qua il cugino later di turno ti direbbe allora prova con la pittura antimuffa almeno comincia a mettere l'antimuffa qual è il problema con l'antimuffa con 50 euro fai tutto sistemi e nel momento in cui tu hai messo l'antimuffa la muffa che c'è muore dopo che hai disinfettato ma partire da uno scenario del genere dove la muffa ti ha fatto una diagnosi degna di un termotecnico gratis se noi non consideriamo il fatto che ci abbiamo un problema di isolamento sulle travi magari resistiamo perché quest'anno non ci abbiamo voglia però la fatica di imbiancare col prodotto sbagliato col prodotto buono è la stessa quindi in questo caso sarebbe saggio secondo me salire di livello cioè una volta che hai scoperto che esistono le famigerate pitture termiche che hanno prezzi diversi se già rimani nel mondo delle pitture termiche io sono nel gradino più alto nel più costoso ahimè però è una mia scelta perché i problemi lievi li risolvono già le rivendite sotto casa non avrei bisogno non avrei la forza di seguire tutti il consiglio che ti do per cui esci da questa live che ne sai un po' di più è ti devi comprare un liquido antimuffa buono che non sia a base di candeggina ne dovrai mettere parecchio perché devi passarlo due volte almeno su tutto poi dovresti dovresti scegliere un ciclo anticondensa devi scegliere con quale azienda sposarti potrai guardare il rapporto prezzo qualità nel mondo delle pitture termiche costa poco uguale isola poco ma chi può dirci che magari anche con la pittura termica che spendo il meno possibile magari basta perché questa l'hai fatta crescere troppo non lo possiamo sapere quindi dal dal basso delle tue poca della tua poca esperienza e pochi soldi spesi probabilmente la mia proposta che ovviamente utilizzerebbe dei materiali top di gamma con una garanzia scritta di cinque anni uno potrebbe dire sì però fra un euro di candeggina e 1500 euro c'è un universo in mezzo e infatti questo è lo scopo delle nostre analisi darti anche un paio di scenari dove puoi come dire decidere consapevolmente di prendere una soluzione valida ma intermedia perché ripeto non c'è limite di spesa tu potresti anche spendere per insufflaggio lana di roccia e vmc 10.000 euro quindi noi siamo in mezzo siamo più cari rispetto al mondo delle vernici siamo meno cari rispetto al mondo del cappotto ma non sostituiamo il cappotto per quello che onde evitare brutte figure si fa un'analisi per capire come funzionano le cose apemi e pitture termiche come si chiama la seconda cosa no si chiamano pitture termiche poi si chiamano pitture termiche o anticondensa però ripeto attenzione non prendere questo termine come ti avessi detto vai a comprare un etto di prosciutto vai dal negoziante diceva principale dammi 5 litri di pittura termica va bene potrebbe funzionare però ragiona un po piuttosto ti porti le foto del colorificio c'è un sacco di gente che ha grandissima esperienza ragazzi quindi quello che vorrei dirvi è io ve la racconto sui social è la nostra è una bellissima avventura ma c'è gente che ha lavorato nei cantieri per tanti anni nelle case e troverete molto facilmente persone che vi racconteranno la mia stessa storia se trovate qualcuno che vi dice metti la candeggina e poi nascondi con il cartongesso come dire se è su facebook gli togliete l'amicizia su facebook se il vostro miglior amico parlerete con lui di altro però cioè ci sono delle regole della fisica non posso nascondere questo problema sotto del pannello di cartongesso no andiamo avanti voglio una tua consulenza apemia devi cliccare sul link in bio che si trova sul nostro canale vai sulla pagina che riguarda la l'acquisto della videoconsulenza clicchi paghi e dopo poche ore ti contattiamo per fare questa videoconsulenza ti viene dato il calendario del tecnico scegli tu l'orario vanessa ma voi fate tutto ciclo antimuffe in biancatura no non siamo in bianchini ci sono soltanto due posti dove io posso dirti che siamo anche in bianchini a milano dove ho conosciuto un'azienda dove ci abbiamo parlato tanto tempo alla fine abbiamo capito che siamo ci siamo sposati letteralmente e in provincia di milano diciamo e zone limitrofe lì ti posso fornire un servizio completo ma l'imbiancatura te la vende un'altra azienda però lì siamo super campioni a bologna c'è il nostro imbianchino cristian calace che è un ragazzo che ci ha scoperto lui ci ha comprato ci ha provato ci ha portato dai suoi clienti poi noi gli abbiamo portato dei nostri e quindi se c'è da imbiancare bologna reggio emilia modena fino a rimini ha detto che arriva lo mando perché lui sa usare i miei prodotti nel resto d'italia non conosco nessuno ho fatto degli esperimenti ma molti imbianchini io sono figlio di un imbianchino mi dicono otto mani di prodotto troppo tempo e non te lo pagheranno mai ci vuole troppi soldi e allora dico vabbè lascia stare questa persona voleva pure pagarti quindi io mi limito a farti la diagnosi darti i prodotti e assisterti fino a che non li metti perché sono semplicissimi da mettere. Antonio i vostri prodotti anticondensi sono vari di per esterno? No perché non esistono prodotti anticondensa per esterno la condensa si forma dentro per uno sbalzo di temperatura tra riscaldamento e muri quindi all'esterno ci sono le silossaniche i quarzi quindi Antonio no il principio di funzionamento dell'anticondensa è la riflessione di calore cioè come il tuo termos che mantiene caldo dentro lì dentro qui dentro della mia vernice c'è vetro e ceramica e perlite che è una roccia vulcanica particolare e argento per creare l'effetto antibatterico il calore rimbalza da un muro all'altro ed evita di formare questi disastri. Ora tolgo le foto del nostro amico Marco che non voglio che rimanga lì a vista. Non sono arrivate altre mail grazie ricordatevi che potete farlo se avete dei dubbi e io torno a farvi vedere qualcosa però vi dico che io alle otto e mezza voglio andare a mangiare quindi giocatevi le ultime vostre cartucce se pensate che io possa esservi di aiuto e mentre vi faccio vedere una delle foto più storiche delle mie live così cerchiamo di capire anche perché a volte come le muffe si formano in casa pur avendo usato le migliori soluzioni. Vediamo se c'è una foto. Quanti prodotti hai? Ne ho sette diversi ma non sono tutti in vendita nel mio shop. I quattro più importanti non sono visibili perché io li vendo soltanto una persona con cui ho parlato e mi sono confrontato. Se io mettessi nel mio shop un prodotto che costa 500 euro a bidone perché ce l'ho è il nostro che si chiama scudo termico. Oltre che fare un'indignazione finirei a striscia la notizia nei tg perché dicono questo vende una vernice latta grande 500 euro eccetera eccetera non sarebbe capito dall'altra parte mentre invece è una medicina particolare che mi gioco in situazioni gravissime. Però fatemi raccontare questa storia e confrontiamoci. Certo che se mi dici anche come ti chiami non ti chiamo apemia che è molto dolce però insomma non è proprio un nome di persona. Dicevo questa l'ho fatta vedere mille volte qualcuno comincerà a dirmi basta però è l'emblema di quello che può succedere quando hai un problema di muffa e per risolverlo usi una soluzione talmente sbagliata che peggiori il problema. Siamo in un bagno, qua c'è l'asta della tenda della doccia, questo signore aveva un po' di problemi di muffa nel soffitto, seri, le macchie, tutte queste belle cose ma il problema è che il cugino diciamo per non dire la professione gli ha detto guarda non c'è niente da fare nei bagni la muffa si forma mettiamo le piastrelle di polistirolo sul soffitto. Questo l'ha fatto e nel momento in cui ha tolto una fonte di traspirazione che poteva assorbire un po' di vapori ha cominciato a grondare l'acqua la muffa si è formata dappertutto e sui vapori che si sono depositati sul polistirolo si è formata pure la muffa qua. Quindi io sono pieno di queste immagini che raccontano errori di gestione e il mio obiettivo visto che non sono a caccia di clienti perché chi ha bisogno mi cerca e sa dove trovarmi è evitare alle persone di trovarsi in una situazione del genere. Quindi se non mi conoscete sapete che io adesso esisto esistono gli hachiappamuffa non è una parodia e ci siamo voluti specializzare visto che avevamo il nostro colorificio che ormai non serviva più a nessuno nell'aiutare persone che sono disperate cioè persone che sono preoccupate per la salute dei propri cari anche avendo una situazione del genere che non è da sottovalutare e che non hanno trovato una soluzione. Per tutto il resto come dico sempre c'è la candeggina. Antonio sotto le travi dei balconi si formano delle macchie scure immagino sia ponte termico. Sì ci sono quei casi in cui si può anche formare lì e diciamo che lì non ci piove direttamente sopra. Antonio meriterebbe di vedere una foto. Gennaro mi spieghi lo scudo termico? Eh qui vuoi entrare vuoi capire i segreti industriali dei nostri prodotti. No scherzi a parte. Semplicemente siccome il problema di alcune pareti che sono veramente fredde e che nemmeno le pitture termiche ce la fanno abbiamo creato un prodotto che si chiama micro rivestimento che praticamente è un qualcosa che fa un po' più di spessore di una vernice ma non è né uno stucco né come dire una malta che si spalma con un pennello che ha un potere di rendere il muro più protetto dalla condensa a livelli esagerati. Quindi me lo gioco sulle pareti fredde perché è costosissimo e va per forza utilizzato dentro un ciclo. Non è che dici voglio un etto di quello vai lo metto e poi me la vedo io. È inserito dentro una cura ragionata. Quindi dove non arrivo con il mio materiale termico standard perché è un problema grave questo prodotto mi dà una marcia in più. Non lo devono comprare tutti ma decidiamo noi a chi venderlo. Questo prodotto non è in vendita e sebbene io ci pensi che ogni tanto magari qualcuno per sbaglio annoiato potrebbe cliccare e farmi arrivare 500 euro che potrei solo apprezzare. Se questo prodotto arriva nelle mani sbagliate viene utilizzato a muzzo tanto per non utilizzare un'altra espressione sarebbe più congeniale e la muffa si ripresenta capisci che io l'indomani ho il web tappezzato di recensioni e mando a casa quattro famiglie dei miei quattro collaboratori perché ho fatto il furbo ma questa cosa non avverrà mai. Vanessa per la consulenza devo scrivere la mia indicata. Allora se non riesci a trovare sbocchi puoi mandarmi una mail con le foto e poi ti diamo il link per la consulenza va bene così. La trovi anche tramite il link in bio su TikTok. Io purtroppo qui non è che posso mettere cartelli che sembra già di stare al mercato però semplicemente ci sono diverse strade per entrare in contatto con noi. Se già voi andate a visitare il sito bastamuffa.com vi rendete conto di quello che possiamo fare per voi però siccome abbiamo messo dei piccoli regalini per gli utenti di TikTok se voi cliccate sul link in bio che potete vedere dopo che uscite da questa live lì ci sono dei servizi che non ci sono visivamente in prima pagina sulla pagina bastamuffa. Grazie Jimmy la passione per la muffa mi anima diciamo così. Qui ragazzi abbiamo una situazione che per il più potrebbe sembrare vabbò un po' di muffa però non è che ha preso tutto mentre invece per noi che ci occupiamo di analisi biologiche di muffa è uno dei casi più pericolosi perché la muffa ha demarcato il suo territorio in maniera molto severa e quando siamo andati a fare la prova con il tampone perché ora voi mi seguite da una mezz'oretta ma io non vi sto raccontando la vera modalità operativa del nostro lavoro che è fantastica perché che io vado a casa del cliente o che gli mandi a casa la scatola degli attrezzi quando fai l'analisi da 150 euro ti arrivano non il tampone spelacchiato che ho di scena ti arrivano una scatola che pesa 3 kg con un sacco di strumenti da utilizzare in casa tua ti arrivano 10 di queste piastrine 5 di questi tamponi ti chiedo di strofinarmi la muffa che hai lì sopra poi tutto si fa in videochiamata la gente rimane sempre estasiata strofini un pochino questo tampone qua dentro richiudi lo metti in una busta facciamo le cose fatte bene questo è l'oggetto di scena il mio cliente fa questo compito a casa poi gli dico fra tre giorni fra cinque fra sette mi mandi le foto cosa può succedere dentro questa piastra con la muffa raccolta vi faccio vedere qualche muffa da collezione perché la mia depravazione è collezionare le muffe dei clienti di milano vediamo qualcosa di interessante allora questi sono test dell'aria li vediamo dopo vediamo un po che cosa c'è qua ok se sei abbastanza sfortunato quello zigzag che ti ho fatto fare ti cresce questa roba qua che significa che ho preso dal muro qualcosa che io reputavo uno sporco nero e bastava utilizzare semplicemente un po di candeggina e invece scopriamo che questa roba è viva quindi ripeto strofinato sul muro strofinato sulla piastra nel giro di una settimana è cresciuta questa meravigliosa creatura ma non è sempre uguale ne cresce in diversi modi potrebbe non crescere nulla e io ho bisogno di questo test per spiegare al mio cliente che sta succedendo perché se mi limito semplicemente a guardare un muro pulito con candeggina gli dovrei dire non hai nessun problema di muffa antonio usato su alcuni punti il vostro antimuffa ma non ho tempo di imbiancare con anticondensa ci aggiorneremo quando è il momento di farlo se dovesse scappare la muffa in altre zone dove hai messo il liquido ti sposterai quindi per il momento tu hai reso invivibile il muro dove messo questo prodotto nulla dura in eterno però intanto lì la muffa non si può attaccare quindi è una soluzione che per te è stata congeniale perché se non facevi altro ti saresti trovato con un problema peggiore quindi l'estetica è migliorata in alcuni punti in altri no ma almeno adesso non respiri muffa però tieni d'occhio la situazione se ti è rimasto un po della bottiglia del liquido naturale lo conservi a vita quindi vuol dire che se mi dovesse spuntare un'altra macchia di muffa pennello e la vado a risolvere questo semplicemente antonio tanto poi io e te ci becchiamo sempre in live quindi mi sa che ti marcherò a vita praticamente ma andiamo avanti quindi vi ho fatto vedere anzi no no non andiamo avanti perché c'è un'altra cosa importante questo tipo di test oltre che essere fatto con un tampone può essere fatto in una maniera ancora più diabolica lasciando una piastra aperta in una stanza con porte e finestre chiuse per quattro ore e dopodiché la richiudo la metto nella busta addirittura spectrum fuori contesto non sono mai stato un tifoso dello spectrum ma l'ho comprato 10 euro in un mercatino io sono pro commodore 64 e amiga 500 che sia chiaro e fondamentalmente no vabbè i segreti sì certo è caso ma i segreti della biologia si fa per ridere questa piastra se viene lasciata aperta per quattro ore se c'è qualche biologo in sala ovviamente mi dica se sto dicendo delle inesattezze potrebbero anche esserci io avevo fatto ragioneria non pensavo di fare la chiappa muffa se nel giro di una settimana da questa situazione trasparente mi dovesse crescere questa roba abbiamo un grosso problema anche se hai muri completamente puliti perché vuol dire che hai una concentrazione di spore che su 9 centimetri di diametro è altissima vuol dire che stai respirando muffa a pieni polmoni non morirà nessuno non ti verrà l'asma dopo domani ma io te lo dico come il dottore quando ti fa fare l'analisi del sangue ti dice c'è il colesterolo alto poi dopo fai quello che vuoi tu quindi capite che il mio approccio oltre a guardare la macchia bene facciamo la chiacchierata io devo raccogliere dei rilievi tecnici oggettivi per poter dire cosa devo fare poi se ho un problema di muffa leggero ragazzi tranquilli non dovete spendere 150 euro per fare un'analisi può darsi che questo prodotto come nel caso di antonio potrebbe aiutarvi però l'importante che avete la tranquillità che avete un interlocutore unico che qualunque cosa accada in questa casa avete una risposta come questi signori che hanno una tappezzeria con la nebulosa e poi mi chiamano per fare un sopralluogo a como la mano è mia come potete vedere tiro via e c'era la muffa sotto loro non ci credevano eh ma c'è un po di muffa qua perché devo togliere tutto perché ormai è andato è ammuffito e buona antonio mi ha contattato michela per le piastre l'analisi a cosa serve nel concreto a noi ci interessa per il momento per vedere la proliferazione di muffe che è nell'aria per servirtelo non per usare quella leva per venderti altro però se una volta che hai scoperto che c'è una concentrazione di muffa abbastanza elevata vuol dire che c'è un'alta probabilità che queste muffe si depositeranno in un altro angolo e parte il problema è una tua informazione quello che sto dicendo adesso ad antonio che per molti è arabo scusate ve lo faccio vedere è che abbiamo ancora una ventina di questi set che antonio ha ricevuto e stiamo regalando nella stessa confezione da 50 euro del liquido antimuffa che arriva queste due piastre perché vogliamo aiutare gli amici di tik tok perché semplicemente gli altri non lo sanno a poter rendersi conto facendo lo stesso test qual è la situazione poi non succede nulla noi disinfettiamo non dobbiamo entrare in una spirale di lavori costosissimi però io l'analisi la devo fare in inverno in due stanze cioè due piastrine questa roba presa da sola un test con il nostro tecnico varrebbe una trentina di euro solo lui però in questo momento per farci conoscere per dare l'opportunità di aiutare chi ci sta chiedendo aiuto lo stiamo mettendo ne abbiamo gli ultimi 20 ne abbiamo fatto una cinquantina le abbiamo messi dentro un po dappertutto abbiamo osservato quando l'ordine arrivava da tik tok perché ce ne accorgiamo e l'abbiamo messo dentro fine stop e poi da febbraio evidentemente non potremmo tenere la povera michela che chiama ognuno dei dieci acquirenti di liquido antimuffa di tutti i giorni però adesso lo stiamo facendo perché se riusciamo a monitorare adesso la situazione ne avremo ne sapremo di più per dopo leonardo ma la cantigina cosa serve allora io la uso per smacchiare i colli delle camicie la uso anche per pulire i sanitari del bagno eccolo lì antonio mi ha già anticipato volevo fare la battuta non l'avevo letto poi non lo so che altro utilizzo ci può essere boh non me ne vengono in mente altri io non la uso daniele le spore muoiono anche in mancanza di umidità allora le spore non hanno un ciclo di vita che sono abbastanza tenaci diciamo che devi non devi pensare al morire ma è le spore non si attivano e diventano muffa se non trovano la goccia d'acqua quindi le spore sono ovunque anche in questo momento io sono circondato di spore se io prendo una piastra e la apro fra cinque giorni cresce muffa qua dentro non è un tuo problema la muffa esiste che tu lo voglia o no quando le spore di muffa si appoggiano su una parete e trovano la gocciolina d'acqua la condensa ecco che li partono quindi il nostro giochino è se noi rendiamo le nostre pareti protette dalla condensa non avremo muffa fine andatevi a leggere le recensioni su traspilot dei nostri clienti ce n'è un'ottantina perché non tutti le lasciano tutti quanti hanno risolto hanno visto il miglioramento della qualità dell'aria ma a tutti è stato venduto un trattamento anticondensa quindi ricordatevi se volete risolvere il vostro problema dovete contenere il tasto di umidità a rieggiare non esagerare coi vapori e proteggere le superfici prete dalla formazione della condensa se voi sistemate i muri e poi avete lo specchio che gronda d'acqua non si ammuffirà lo specchio ma semplicemente quello è un indicatore di condensa sullo specchio lì vuol dire che magari non sto scaldando bene ci sono tanti tanti scenari allora quindi fai un riepilogo ah ok il mio riepilogo è che ragazzi che poi in realtà dici bene perché io fra tre minuti voglio andare a cena il riepilogo è qualunque sia la vostra situazione in questo momento anche questa per dire che è già abbastanza grave il consiglio che vi do è domani mattina andate in colorificio quando tornate da lavoro e prendete qualcosa che reputate utile per la vostra battaglia contro la muffa abbiamo detto che si sconsiglia l'utilizzo di candeggina di prodotti che hanno simboli di pericolosità vediamo se posso farveli vedere guardate che spettacolo queste sono tutte le foto di cui io posso fare delle live sono 300 foto selezionate una una ognuna con una storia ma questi sono i lavori di qualche mese cioè se avessi i lavori di 20 di 10 anni eccoci qua sono 5 giga di foto allora ragazzi abbiamo detto la muffa fa male alla salute dei nostri figli la nostra salute non ci interessa per chi se ne importa però se avete delle macchie di muffa in giro avete questa macchia non è che me la tengo perché dico ma tanto è soltanto una macchia perché qui ci dormi quindi se ci tiene la tua salute dovresti come minimo metterci su qualcosa che gli metto la candeggina l'acqua bicarbonato l'aceto l'acqua ossigenata fate voi io vi ho detto la mia vi sconsiglierei di comprare deliberatamente un prodotto che esce con queste due etichette che vi racconto di nuovo c'è scritto pure pericolo è corrosivo che vuol dire che se mi cade una goccia mi fa un buco nella mano ma mi irrita la pelle e pericoloso per l'ambiente gli organismi acquatici e uno dice a me lo devo spruzzare sul mio muro mica lo devo sversare nei mari sì ma una roba del genere in una cameretta finestre chiuse io non ce la metterei in inverno e anche se a rieggio e metto la mascherina non mi sembra la migliore soluzione qual è il suo vantaggio che costa 5 euro invece di 50 euro di questo prodotto mi leva la macchia subito me lo tengo in casa e spruzzo quando voglio ma ci sono delle persone che si sono intossicate quindi il mio riepilogo è la muffa va eliminata non dovete per forza risolvere la causa non è detto che avrete un problema così grave ma se già voi interveniste di anticipo disinfettando questa zona e magari pitturando anche solo questo angolo con un litro di vernice anticondensa che costa 20 euro voi non avreste mai più nulla a che fare con me e forse vivreste un po più tranquilli tanto io comunque dovrò aiutare nella vita persone che non ce l'hanno fatta perché ormai siamo arrivati tardi quindi perché dobbiamo portare tutta l'italia a una super a una situazione di frustrazione di emergenza quando ci sono già problemi più gravi nella vita preferisco che un mio buon consiglio vi risolva gratis un problema probabilmente parlerete di me all'amico quella volta che ne avrà bisogno e lavoriamo così cioè insomma questo è la mia filosofia sul sul lavoro grazie leonardo daniele mi chiede qual è il livello di umidità giusta per non farle partire ti do una brutta notizia l'ho detto già prima tu puoi avere il 50 per cento di umidità in questa stanza e avere questa muffa quindi non c'è un livello di umidità per non farla partire perché altrimenti ti dovrei dire il 20 per cento però muori soffocato perché l'aria è troppo secca ti ribalto la questione se l'umidità è a 70 hai molta più probabilità che la muffa si formi nella casa tua e che cresca più velocemente poi c'è un altro tema tu stai misurando nel centro della stanza il tasso di umidità ma non è che hai appiccicato l'orologio qua non è che sei andato con un termoscanner quindi immagina che la tua umidità al centro della stanza è un valore poi devi fare un più 10 15 per gli angoli freddi quindi anche tu che hai il 55 ti senti al sicuro lì ce n'è sempre un po' di più ecco perché le persone che hanno il 50 per cento di umidità poi mi dicono ma perché nonostante tutto quindi figurati chi ha il 70 per cento al centro della stanza che si ritrova qua e infatti poi succedono queste cose vediamo un po' se abbiamo altre domande poi chiudiamo cosa ne pensi della pittura termica marica ne abbiamo parlato un gran bene fino adesso però non è come si dice la panacea la soluzione di tutti i mali perché se compri la pittura termica e non la usi in maniera adeguata hai speso tanti soldi fatti consigliare dal colorificio e segui le istruzioni e mi raccomando non mischiare candeggina con pittura termica come hanno fatto in tanti quindi la pittura termica può aiutare chi ha problemi di muffa da condensa ricordati che costa il doppio e rende la metà quindi costa il quadruplo di una pittura normale anche se tu credi di aver pagato 70 euro quella pittura rende poco e costa di più quindi non è che basta che dice vabbè ho sentito da giuseppe che ha detto la pittura termica pigli gli sbatto un po di pittura termica ci sono tante persone in gamba non sono solo io l'unico dispensatore di consigli il vostro negoziante di fiducia vi saprà dare il buon consiglio però l'input che deve partire da voi è e qui chiudo davvero è voglio un prodotto che sia efficace voglio un prodotto che sia certificato questa è l'ultima chicca che mi gioco classe a più che l'etichetta di sicurezza per la salute che c'è su tutti i miei prodotti significa che non contengono formaldele sono ecologici ho il diritto di avere un prodotto del genere e non voglio candeggina quindi una volta che voi avete ristretto il recinto o lui vi dirà non c'ho niente perché ho solo roba a base di candeggina e pitture chimiche perché costano troppo e continuerete a cercare poi se non vi interessa tanto il discorso cosa si respirano i miei figli intanto togliete la muffa però non stiamo qua a cazzeggiare sui social se c'ho un problema di muffa che posso risolvere domani mattina in un attimo questo è un problema lieve va risolto subito questa cosa poi è diventato un problema molto più grave per il cliente che mi ha mandato questa foto quindi non voglio fare quello che fa le prediche e i sermoni però io so che domani parlerò con 15 persone vedrò altre 15 muffe nuove e se avessi potuto dargli un consiglio prima magari eccetera eccetera edo cosa ne pensi di passare la vernice antimuffa con il rullo alziché il pennello non cambia nulla è semplicemente una tecnica e come ti senti meglio io sono pro rullo e i vecchi bianchini usavano la pennellessa sempre pittura antimuffa resta se funziona funziona se non funziona non funziona tre giorni con gli infisti aperti usando l'ipoclorito di sodio lo so daniele grazie ti contatto in pvc buona cena in pvc in pvt ecco voi dovete non dovete restare dovete andarvene perché altrimenti io continuo a parlare comunque a parte gli scherzi io ringrazio e sono grato a 1400 persone che si sono prese la briga di fare pure due click per lasciare il mi piace mettere il cuoricino che magari era più adatto per live di personaggi di intrattenimento dello spettacolo però evidentemente avete gradito la mia compagnia io per oggi vi prometto che non pubblico video vado mi dedico alla mia famiglia e per oggi basta chi ha a che fare con me sa come funziona purtroppo e però c'è una cosa ragazzi se non si dà una mano nel periodo più importante a ferragosto non se non mi sentirete parlare di muffa e parleremo d'altro o meglio si parlerà di muffa ma non in questi toni ciao marianna e quindi il tema è andate dalle vostre famiglie uscite fuori da queste live uscite tornate al mondo torniamo al mondo reale e abbiate cura della vostra salute questo prima di tutto poi per qualsiasi cosa avete bisogno cliccate sul link in bio o mandate una mail a live chioccio la basta muffa domani il nostro staff che avviserò avrà qualche richiesta in più e saremo lieti di aiutarvi ciao a tutti buona serata